Ciao gente, per chi non mi conoscesse sono Lu Marcian, sono una scrittrice e una musicista, anche se musicista per ora lo mettiamo fra parentesi, perché più che altro è ancora un'aspirazione, ma ci sto lavorando. E oggi volevo condividere con voi un pochino dell'entusiasmo che ho avuto io nel tenere in mano la prima copia di prova del mio libro che sto autopubblicando su Amazon, stessa spiaggia, stesso mare. Questa autopubblicazione è stata rimandata a oltranza, un po' per cause esterne, ho avuto molto lavoro negli ultimi tempi, quindi non molto tempo per lavorarci. E un po' perché autopubblicarsi è un casino, non credete a chi vi dice che autopubblicarsi è semplice perché non sanno cosa dicono e se lo sanno mentono ve lo posso assicurare. Il problema della pubblicazione è che devi fare tutto tu, assolutamente tutto tu, e quando è quasi finito, ogni volta viene fuori un altro problema che tu non avevi considerato o di cui magari non conoscevi nemmeno l'esistenza. Ma per fortuna in questi giorni sto compiendo gli ultimi passi per portare a terminare la pubblicazione e uno di questi passi è ordinare le copie di prova e vedere come viene la stampa, che è molto importante, nel caso ci fossero alcuni difetti che ci sono sempre garantiti. Ma devo dire che questa copia qua è venuta benissimo, molto meglio di quanto mi aspettavo. Devo autocongratularmi un pochettino perché sono stata davvero brava per essere la prima volta che faccio una cosa del genere e devo anche dire che ora capisco perché così tanti autori che si vogliono autopubblicare usano Amazon. Nonostante il mio professato anticapitalismo e tutte le mie critiche ad Amazon, ammetto che il servizio che offrono è molto molto buono, sia per pubblicare in ebook, sia per pubblicare in formato cartaceo o fisico e le copie cartacee sono di qualità davvero buona. Non hanno niente da invidiare a un qualunque altro libro che voi potreste comprare in una libreria, libri pubblicati da un editore, assolutamente niente. Anzi, oserei dire che forse in alcuni casi la qualità addirittura è un po' migliore. Però alcuni difetti ce li ha, un po' per colpa mia, un po' perché è sempre difficile per vedere come verrà fuori stampato. Quindi lo sfondo della copertina è una foto che ho preso io e a cui poi ho applicato un filtro. È venuta più scura nella stampa di quello che avevo io nel formato digitale. Non si vede in realtà tantissimo nel video, ma vi assicuro che è più scura. E questo ha fatto sì che il mio nome, Loomartian, scritto in nero, su uno sfondo più scuro di quello che mi aspettavo non sia così leggibile come avremmo voluto. Siccome da quello che ho sentito è molto facile che copie diverse di libri pubblicati abbiano qualità diverse e colori un po' diversi perché vengono spesso stampati in stamperie diverse, non credo che oserò più di tanto cercare di cambiare lo sfondo ma scriverò il mio nome in un colore chiaro, magari contornato da una linea nera giusto per sicurezza, un contorno oscuro. Il retro è venuto bene, però devo dire che il sommario l'ho scritto decisamente troppo grande. Ieri quando ho tirato il libro fuori dal pacco, prima ho visto il davanti e ho detto wow, mica male. Poi l'ho girato e ho detto wow, gigante. Ma vabbè, lo scriverò più piccolo. Questi riquadri, questo riquadro dietro e questo qua, volevano essere un azzurro chiaro ma non ce l'hanno fatta. Più che altro è venuto fuori un grigino indefinito con aspirazioni azzurre. Di nuovo questo è dovuto all'alterazione dei colori della stampa. Io devo dire che avevo tenuto nel mio documento digitale, nell'immagine che ho mandato per la copertina, colori molto tenui perché temevo che nella stampa magari può essere venuta fuori una cosa fluo, inguardabile, un pugno in un occhio con colori estremamente saturi e invece è successo il contrario, ovvero i colori sono molto meno saturi di quelli che avevo io. Ma vabbè, lo aggiusterò. In generale la copertina mi piace, è venuta bene, a parte questa cosa dei colori che vabbè è una piccolezza ed è facilmente aggiustabile. L'unica cosa è che ho scelto la copertina opaca, non perché in realtà mi piacciono le copertine opache in particolare, anzi preferisco quelle lucide, però quelle lucide a seconda di come sono fatte possono presentare dei problemi. Molte sono fatte ponendo un sottile strato di plastica sul cartoncino, una pellicola e naturalmente dopo un poco si spella, si sbuccia. Qua c'è una bolla, questo è il nome della rosa, bolla, spellature in fondo, sul retro anche. succede anche con libri nuovi, questo ce l'ho da un anno e è già un po' spellato, ok che l'ho letto al mare, quindi è stato soggetto a delle intemperie, però lo stesso dopo un anno già un pochino si spella, appena appena, però succede. Quindi credevo che la copertina opaca fosse un'opzione più sicura. Fra l'altro non so se notate, ma ho bellamente copiato lo stile di questa copertina per fare la mia, perché mi piaceva tantissimo questa. E non solo sono grata a questo libro per la copertina, per avermi dato l'ispirazione, ma anche perché è un libro bellissimo che vi consiglio. è il giardino dei mostri di Lorenza Pieri. Non mi paga, non vi assicuro. È un consiglio onesto, è davvero bellissimo. In più mi ha aiutato a creare il mio. Quindi avevo prato, appunto, dicevo, per la copertina opaca, però non mi piace la consistenza. Io mi aspettavo una copertina opaca, però liscia, o al più magari un pochino rubida. E invece questa qua ha una consistenza quasi gommosa. È molto strana al tatto. E non credo che mi piaccia più di tanto. Preferisco sicuramente una copertina liscia. E mi domando anche un pochino se questa alterazione dei colori non sia dovuta a questo materiale, con questo cartoncino che sembra molto poroso. Non so. Quindi la prossima copia di prova la farò lucida. E vedrò che succede. La rilegatura è ottima. Ero preoccupata per questo, perché il libro è spesso, è grosso, molte pagine, all'incirca 500. E mi aspettavo che la qualità di un libro autopubblicato, stampato fosse inferiore a quella di un libro stampato da un editore. Mi sbagliavo, come già detto. La rilegatura è venuta benone. Le pagine sono incollate bene. Sembra leggerle benissimo. Si sfoglie bene. È venuto veramente bene. L'interno, il testo, è leggibilissimo. Stampato molto nitido, molto leggibile. E questo in realtà non è soltanto merito mio, ma è stato un caso fortuito. Perché io avevo usato un carattere diverso da questo. Avevo usato il Baskerville e invece la stampa è venuta in Times New Roman. Perché ci sia successo? Non ne ho idea. Semplicemente quando ho caricato il mio documento su Amazon, poi l'ha reso in Times New Roman. È stata una fortuna perché il mio testo in Baskerville era molto meno leggibile. E non solo, era anche più lungo. Ovvero il Times New Roman è un pochino più compatto e si è mangiato via 100 pagine addirittura. E siccome il costo del libro aumenta, a seconda di quante pagine ha, è una gran cosa. Quindi sono molto felice che alla fine sia un Times New Roman. Non è che io non volessi usare il Times New Roman, che è lo stile più comune del mondo, perché abbia qualcosa di personale contro il Times New Roman. Ma perché avevo letto che di solito i romanzi non vengono scritti in Times New Roman, ma magari in Baskerville o Garamond. E volevo essere una scrittrice professionale, volevo avere un libro che risultasse professionale. E quindi non volevo usare il Times New Roman solo per quello. Ma devo dire che anche per un carattere così piccolo è molto meglio il Times New Roman. È estremamente leggibile, non dà fastidio agli occhi anche se è minuto. Una cosa che è successa, errore mio da principiante, è che la sillabazione a fine riga è sparita. Nel mio documento avevo messo la sillabazione automatica, ovvero la parola a fine riga, se possibile, veniva spezzata col trattino classico. Questo è scomparso, ma è perché quasi sicuramente ho caricato il file docx invece che un pdf. Vabbè, prossima volta caricherò il pdf. Ma a parte queste poche cose, è venuta veramente veramente bene. Ieri sera, quando è arrivata, sono rimasta in adorazione per un paio di ore, così. Ad ammirarla. Applicherò le modifiche necessarie già oggi e ordinerò la nuova copia di prova già oggi. E vi farò sapere che succede, come va. Se volete supportarmi in questa impresa, vi ricordo che un like, un follower in più, una condivisione, aiutano moltissimo. E se siete interessati al mio libro, che è un fantasy horror, di cui vi parlerò più in seguito. Oggi volevo soltanto farvi vedere la stampa, la copertina. Potete seguirmi su Facebook, su Twitter, su Instagram. Sono dappertutto con il prezzemolo. Per oggi, grazie per aver guardato il mio video. E vi saluto. Ciao ciao.